ciao fiocchi! non prendo neanche il mazzo oggi, siamo così ultimo video di questa serie di video diari, o presumo per adesso quantomeno per le parti 1 dei video che ho fatto oggi il video più difficile di tutti, capirete adesso perché dischi, album quindi, se volete allora, vediamo, quelli che secondo me sono i dischi imprescindibili alcuni, quelli che ho qua soprattutto, ma ce ne sono altri milioni non parlo di singoli, ma solo di album completi e cosa vuol dire imprescindibili? vuol dire che sono belli dall'inizio alla fine non che contengono una hit necessariamente ma quelli che sono proprio un capolavoro, tutte le tracce sono un capolavoro sono messe nell'ordine giusto e perfetto e quindi dovete ascoltarle almeno una volta nella vita per capire come funziona la musica, ma non solo allora, partiamo, vi faccio vedere, partiamo con i cd alcuni ce li ho in cd, alcuni in cassetta, alcuni ce li ho in vinile alcuni ve li faccio vedere misti perché non ho, magari non ho l'album completo ma solo dei singoli, poi vi faccio vedere in sostanza allora, partiamo con unico, forse, unico, quasi unico album metal all'interno di questa classifica più che altro perché non ne ho tanti avrei potuto mettere, vabbè, forse il black album di Metallica System of a Down Toxicity in questa edizione cd per intenderci c'è Chopsway, Toxicity e Reals però è bello tutto dall'inizio alla fine, quindi questo ve lo ascoltate se vi piace il metal ovviamente tutto, ma se vi piace il metal sicuramente conoscete alcune canzoni, ma vi consiglio di ascoltare l'album dall'inizio alla fine e così ci siamo tolti dalle palle il System of a Down poi, questo no, questo no questo purtroppo ce l'ho solo in cd non ce l'ho in 33 cazzo, lo vorrei, ma lo comprerò prima o poi l'album si chiama Black Sabbath, dei Black Sabbath e contiene una canzone che si chiama Black Sabbath 1970 primo album appunto del gruppo di Ozzy Osbourne imprescindibile ascoltarlo tutto dall'inizio alla fine almeno 50 volte finché non evocate il diavolo questo lo devo comprare in 33 assolutamente poi, un altro che, invece andiamo su un italiano non ce ne saranno tanti italiani purtroppo purtroppo non ho in 33 questo è un album prog, ne parlo in qualche video del prog di tanti anni fa le orme Felona e Sorona purtroppo fanno un sacco di riflesso questi cd ovviamente che come vi dicevo ho solo in cd questo è un album prog le tracce sono tutte collegate e raccontano la storia di due pianeti che si chiamano appunto Felona e Sorona non ascoltate l'edizione nuova perché fa cagare non ascoltate, c'è un seguito fatto da un altro gruppo terrificante solo l'originale, questo qui, c'è anche in versione con i testi in inglese ok, un'esperienza molto interessante degli anni 70 italiani Genesis, Selling England by the Pound il nome più difficile della storia copertina bellissima, anche questo purtroppo ce l'ho solo in cd sempre album prog progressivo quindi bello tutto dall'inizio alla fine non so cosa dirvi su questo questo è proprio bello lo mettete su, ve lo ascoltate fino in fondo ci saranno altri album prog ovviamente non ho messo, potrei metterne qualcun altro vabbè ma li lasciamo per la seconda puntata perché molti li ho lasciati fuori poi unica colonna sonora questa anche, questa la conoscete sicuramente Ian Tirsen il favoloso mondo di Amelie colonna sonora non dico niente, su questa non dico niente ok, abbiamo finito i cd per ora e adesso facciamo una roba complicata allora, cassette cassette anche qua alcune delle cassette che ho non tutte ovviamente se ci sono in cassetta ci sono anche in 33 ci sono anche in cd ma io ce l'ho in cassetta purtroppo ce l'ho solo in, alcuni solo in cassetta blues brothers colonna sonora allora vedi c'è un'altra colonna sonora avevo dimenticato che questa è effettivamente una colonna sonora dal film di John Landis con John Belushi e Dana Croyd che sono anche quelli che cantano capolavoro ma lo conoscete sicuramente tutte le canzoni dall'inizio alla fine sono paurose se non lo conoscete siete stronzi come vi dico sempre sono delle robe che se non le conoscete non possiamo parlare ma non solo io e te tu e tutti gli altri di che cosa parlate se non hai mai sentito la colonna sonora di Blues Brothers dall'inizio alla fine perché un conto è aver sentito la canzone e un conto è aver sentito l'album poi vabbè questa fa un po' ridere però era solo perché volevo farvi vedere che ce l'ho non c'è neanche un'altra vabbè 883 hanno ucciso l'omoragno beh in realtà non è male cioè riascoltatelo non è per un cazzo male in verità insieme a dov'è che è luna pop squarez è quello questo lo conoscete tutti sicuramente e niente volevo solo farvi vedere che ce l'ho in cassetta potevo anche evitarlo ma fa niente ah come come anche gabibbo un attimino prezzo speciale 13.000 lire secondo me questo è un capolavoro se non la avete niente sto scherzando sto scherzando andiamo sull'ultima cassetta seria per il momento che è attenzione no due uguali identiche Toto 4 per intenderci Rosanna Africa ok ma in realtà anche tutte le altre Jeff Porcaro l'altro Porcaro Lucatier tutti i Toto originali informazione originale di questo non ho il 33 purtroppo comunque questo è un capolavoro se siete dei musicisti ancora meglio se siete dei batteristi se siete dei batteristi non suonate Rosanna almeno una volta nella vostra vita siete stronzi e basta oh andiamo sulle cose più più interessanti partiamo con e qua attenzione perché non ce l'ho solo così ovviamente Bruce Pristin Born in the USA 1984 1984 dovrebbe essere 82 non lo so questo qui vabbè anche questo lo conoscete tutti con questa copertina incredibile con il culo del boss Born in the USA Bobby G non going down glory day cioè ogni canzone è un singolo ok tutte le canzoni che ci sono su questo disco sono bellissime ma ovviamente ovviamente non ve l'ho fatto vedere prima ma da qualche parte ce l'ho in cd ovviamente questo era sempre in macchina quando avevo 18 anni i grandi proprio le canzoni felici che si ascoltavano poi Die Straits Making Movies che ho anche in cd ma ho perso la copertina del cd anche questo classico grande classicone Romeo and Juliet Expresso Love giusto? sì Solid Rock Tunnel of Love ok Tunnel of Love che è anche un video bellissimo questo qui tra l'altro qua mi viene su un colore strano ma è rosso e blu ok Dire Straits l'unico di Dire Straits che metto ma potrei metterli tutti in verità poi oh andiamo a un altro italiano li prendo in ordine come li ho disposti così a caso non hanno nessun senso Antonello Venditti sotto il segno dei pesci che voi direte ma Antonello Venditti fa cagare e avete anche circa ragione ma questo è un capolavoro 1970 qualcosa bellissimo è quello qua un sottosegno dei pesci bomba rombomba c'era il cinese tutti gli altri ed è proprio bello dall'inizio alla fine oltre al fatto che è proprio bello questo è piacevole da toccare è proprio fico andiamo dentro com'è dentro ci sono delle foto incredibili degli anni 70 con un bel mixerone gigantesco sottosegno dei pesci questo è uno di quali questo è uno di quali che potete dire eh ma Venditti mi fa cagare non l'ho ascoltato mai ho ascoltato solo proprio l'album dall'inizio alla fine secondo me poi questo lo tengo per dopo magari qualcuno l'ha visto ma lo tengo per dopo Emerson Lake and Palmer questo è troppo bello guardate quanto è bello Emerson Lake and Palmer Tarkus ve l'ho detto che sarebbero tornati un po' di di prog questo proprio una suite prog dall'inizio alla fine abbastanza pesante vi deve piacere il genere ovviamente se vi piace il genere secondo me insieme a quello dei Genesis di prima quello delle Orme di prima l'album completo migliore mai fatto quindi Tarkus Emerson Lake and Palmer poi abbiamo oh andiamo su qualcosa di nuovo Cigarettes after sex questo direte mi fa cagare Cigarettes cazzi tuoi bene Sunsets K Young and Dumb Apocalypse per intenderci questo è il primo disco che unisce un po' di EP dei Cigarettes se vi piace il genere compratelo è bellissimo poi se questo fa ridere volevo solo farvi vedere che ce l'ho in 33 perché è bello effettivamente effettivamente è un bel disco ovviamente non serve avercelo in 33 Carbrave Franco 126 Polaroid 2.0 che è quello con su a parte solo guai eccetera eccetera su anche Argentario non mi ricordo che cosa avevano aggiunto di altre canzoni 2018 no volevo solo farvi vedere è bello adesso vi faccio vedere il vinile che è bellissimo perché è rosso niente volevo solo fare cioè era solo per vantarmi che ce l'ho però è bello no effettivamente non è per un cazzo male come disco proprio bello dall'inizio alla fine poi allora anche di questo ne abbiamo ben due copie perché una è una ristampa questo invece è un originale italiano perché ne ho due perché boh però quello ristampa è quello che ascolto di più ce l'ho anche in CD sicuro ovviamente anche questo era insieme a Bruce Springsteen uno dei di quelli che avevo sempre in macchina comunque Neil Young quindi folk folk un po' rock per intenderci old man harvest wars between the lines ok capolavoro imprescindibile uno dei dischi migliori mai fatti soprattutto se siete tristi poi poi questo di questo ne parliamo un'altra volta ve lo faccio solo vedere ma ne parliamo un'altra volta non lo volevo mettere in questo video ok arrivati agli ultimi due e così vi faccio vedere il mio disco preferito in assoluto di sempre e il secondo disco preferito in assoluto di sempre che è questo allora Alan Parson Project se avete visto il documentario su Michael Jackson la canzone che si chiama Sirius la conoscete perché è la canzone con cui entrano i Chicago Bulls ma questo qua è Alan Parson è il produttore il tecnico del suono dei Pink Floyd a Abbey Road 1972 imprescindibile mi piace così tanto che ce l'ho in cassetta e anche il singolo in 45 questo qua ascoltatelo tutto dall'inizio alla fine ah no dimenticavo ce l'ho anche in cd ovviamente ce l'ho tutti come ho tutto adesso non ho qua il cd perché non è da questa parte del mondo come non ho tutto no non è vero ne ho un altro da farvi vedere prima ovviamente allora Pink Floyd The Wall cd singolo ok quindi il 45 questo non ha bisogno di presentazioni ma ultimo non per importanza non ho purtroppo il cd perché non ce l'ho non so dove l'ho messo cazzo lo cercherò comunque sia partiamo dal singolo Moonlight Shadow la cassetta che si chiama Crysis e il 33 quindi My Coldfield Crysis questa versione un po' rovinata purtroppo dovrei comprarne una versione più bella questo è bellissimo il lato il lato A ha una canzone che si chiama Crysis che è una suite di non c'è scritto quanto ma tipo 13 minuti 14 minuti e nel retro invece Moonlight Shadow High Places Foreign Affair Taurus 3 e Shadow of the Wall tutti capolavori incredibili del compositore Mike Holfield che per intenderci è quello di Tubular Bells quella la canzone dell'esorcista ok e niente niente è stato difficile erano un sacco di dischi questi sono alcuni poi faremo la versione 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in cui vi faccio vedere gli altri che secondo me meritano comunque tutti questi poi riguardatevi il video ditemi quali sono secondo voi invece i dischi imprescindibili questi sono i dischi imprescindibili che ho qua a portata in questo momento ne arriveranno altri non ci sono i Beatles perché purtroppo non ho dischi dei Beatles ma altrimenti li avrei messi e che altre mancanze gravi ho vabbè ci penseremo nella puntata 2 ciao